Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi risponderò ad un signore che mi parla di calvizie, calvizie, perdita dei capelli. Può l'ipnosi, come ho letto in alcuni libri, risolvere il problema di calvizie? La risposta è sì, 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 con l'ipnosi vera e professionale. Non credere al sottoscritto, prova, siediti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, non l'ipnosi fuffa, conformista commerciale o da strisce alla notizia che si trova anche in giro, e prova, 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 perché ricordati, la crescita dei capelli come la crescita delle unghie, se tu non lo sapessi, è controllata dalla nostra mente, dal nostro pilota automatico, che tu ci creda o meno, ok? La prova del nove è quando hai un forte spavento, una forte rabbia, tremi tutto, è tutto, vero? Senti dolore al petto, somatizzi, è bene come le foglie di un albero, i capelli cadono per la tristezza, per la depressione, per la paura, per il panico, per tutte queste emozioni che si somatizzano nel nostro corpo. Non devi credere a me, guardati, analizzati, osserva. Io nella mia vita ho visto persone che sono passate anche con i capelli della sera alla mattina, dal castano, dal nero, dal colore naturale della giovinezza, al bianco della vecchiaia, perché hanno subito delle esperienze traumatiche, di tristezza, di depressione profonda, magari la ragazza li ha lasciati, li sono visti soli e abbandonati, eccetera, eccetera, oppure viceversa, il ragazzo. E sta, e sono invecchiati alla velocità della luce. L'emozione, ragazzi, si può sconfiggere, l'emozione negativa si può cancellare soltanto del passato, con l'ipnosi vera e professionale, l'ipnosi vera e professionale. Lo ripeto, è il mio metodo, metodo di CS, per quanto riguarda me, è il non plus ultra. Poi ti invito a provare anche altri metodi, anche l'ipnosi conformista e commerciale, però l'importante è che il professionista dell'ipnosi, anche conformista e commerciale, abbia trattato il caso tuo, che sia esperto del tuo caso, perché quando tu incontri qualcuno di generico, fa tutto e fa nulla. Se invece becchi la persona che ti toglie il vizio del fumo, che le ha fatte tantissime, eccetera, eccetera, o come uno specialista, stai sicuro che arrivi al 90-95% di probabilità di riuscirci. visita, quindi se tu hai problemi di calvizie, di perdita di capelli o stanno...